Moltiplichiamo 6 per 7981 e per farlo espanderemo 7981, cioè lo scriveremo come 7000 più 900 più 80 più 1. Quindi 6 per 7981 è la stessa cosa di 6 per 7000 più 6 per 900 più 6 per 80 più 6 per 1. Abbiamo distribuito il 6 e per aiutarci a tenere traccia delle cose disegno una griglia qui. Allora questo è il nostro 6 e facciamo un grande rettangolo dove segnerò le mie risposte, cioè quanto fa 6 per 7000, 6 per 900, 6 per 80 e 6 per 1. Ecco qui. Dobbiamo pensare allora, 6 per 7000, beh 6 per 7 è 42, quindi 6 per 7000 è 42.000. 6 per 900 di nuovo, allora 6 per 9 è 54 e quindi 5400. 6 per 80 è 88 decine, 6 per 8 fa 48, ma era 6 per 80 e non per 8, quindi 480. Infine 6 per 6 per 8.000. Quindi per trovare il prodotto dobbiamo fare la somma di questi numeri, 6 per 7000 più 6 per 900 più 6 per 80 più 6 per 1. Facciamolo qui. Allora, sarà 42.000 più 5.400 più 480 più 6. E allora, nelle unità abbiamo 6, nelle decine 8, nelle centinaia 4 più 4 quindi 8, nelle migliaia 2 più 5 che fa 7, nelle decimigliaia abbiamo 4. Quindi otteniamo 47.886. Ecco, il nostro risultato 47.886. E ti consiglio di ragionare sul fatto che quello che facciamo qui non è diverso dalla moltiplicazione tradizionale in colonna. È un modo utile di pensarci. Ora capisci cosa succede e quando lo fai a mente cercherai di farlo così. Se mi chiedono, per esempio, 6 per 7.981 e non ho carta per scrivere, io faccio 6 per 7.000 e quindi trovo 42.000. Provo a ricordarmelo e poi faccio 6 per 900 e viene 5.400. Lo sommo a quello di prima e quindi ottengo 47.400. Poi faccio 6 per 80 e il 480 lo sommo al 47.400 e ottengo 47.880. Poi quanto fa 6 per 1? 6. Lo sommo e quindi fa 47.886. Ecco cosa succede davvero quando moltiplichi. Non mi dia più cifre. Ed è una tecnica utile per fare la moltiplicazione a mente.